Il Papa della pace in un Egitto di pace. Oggi inizia il diciottesimo viaggio apostolico di Papa Francesco in Egitto. A fare da sfondo in questo venerdì 28 aprile 2017 il canto del muezzin che si riesce a sentire nonostante il traffico caotico del Cairo. Sono fortissime e strettissime le misure di sicurezza ma anche enormi le aspettative e le speranze di chi crede nel dialogo ecumenico e interreligioso. Come i copti cattolici e i copti ortodossi che nella Domenica delle Palme sono rimasti vittime di un terribile attentato.